Gli asfalti sono per mettere in maggiore sicurezza la viabilità comunale, dove sono tantissime vie asfaltate e sistemate, le strade provinciali, alcuni rappesi nella città di Vallefoglia, la strada totale è il centro di Vallefoglia che da 25 anni Montecchio e tutta la vallata che aspettano un asfalto così importante e sicuro con tutta la segnaletica verticale orizzontale e quindi la città è più sicura. Poi una serie di altri cantieri che ci consentiranno di partire a settembre con diverse inaugurazioni, il teatro Branca Sant'Angelo, il pedonale ciclabile, l'acqua sportivo. Il prossimo anno, prima della fine dell'anno, inaugureremo il nuovo municipio. A giorni dovremo avere la ditta che realizza il nuovo teatro a Bottega di Vallefoglia, a 330 posti. E quindi anche quello hanno un anno di tempo, il municipio in legno, il teatro in prefabricato. Quindi come si vede una città in forte movimento, una città che produce e che spero e speriamo che si possa ritornare quanto prima alla piena occupazione, debellando questo virus e ritornando ad una situazione di normalità in cui tutti possono trovare lavoro, sicurezza, tranquillità e serenità.